ma perché mamma si deve si muove benvenuti su una live di full tamer pesca ragazzi vi ricordo che siamo sul canale viola twitter twitch e tit tocotoc tete e facebook mi raccomando sostenete il canale iscrivetevi un bel like e via così e chi vuole partecipare con i propri video può tranquillamente fare richiesta hai detto da solo tuo figlio aspetta che devo cambiare tieni la canna così a piacere oh qua abbiamo un pescatore ho preso una trota ciao dovevamo dormire troppa gente troppo c'è l'occhio l'occhio già spento l'occhio deve andare da qualche parte si perché è freschino qua eh angelo anche te non hai niente addosso c'è qualcosa andiamo 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 mamma no mamma no mamma minchia che cappello mi sembra un po' me non quel cappello quando li avevo bella un momento appena preso una trota la tua nonna la trota hai visto il video della tua sorella no purtroppo io non uso non uso l'ardiglione perciò faccio un po' fatica a starci dietro però l'ho preso l'ho preso e tua sorella ha fatto il video eh si è già online è già online oh 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 vai già via anche te non so se prende dell'acqua ti dici che l'acqua è? la macchina è pulita? ma è pulita ti ho dovuto essere ieri del sport oh vedi ti puoi salutarmi allora va bene sarò inattibile di darmi una trota seduta stessa tira una su e mangiamola è stato lui che non le fa scappare ciao ciao ho preso una trota eh hai visto il basco che l'ha tirato su lei? ma porco cane un kilo e mezzo di roba infatti sapete? eh no infatti se non ci fossero stati loro rimane valido io non so se facevo ciao nonna ciao bello vai bravo eh ciao ciao buona domenica altrettanto ciao e buon primo maggio ciao lei dove sono io domani? devo portare i bimbi in gara a Cesenatico alle 8 di mattina parto alle 6 e mezzo un unico mestiere non volevo lavorare invece un peccato ciao ciao buon lavoro ciao c'è l'istruttore deve portare i bimbi in gara a Cesenatico alle 8 di mattina buon si può dare non lo so ma devo che avesse smesso invece avesse deve continuare è pagato adesso deve vivere da solo ah va ci sta a riscaldino buono la mia crostatina era buona non era mai la torta salata dopo che l'ha riscaldata era buona vero? beh le ho fatte delle più buone no? che sta ho capito ma dove è? c'è l'acqua del lago da là è entrata là dal tubo rosso e il su plus e c'è da lì no di quel tubo è a fianco lì mamma non so parlare non vedo il tubo esce da lì entra da lì eh sì ed esce da lì è un po' piatto c'è questo venticello che va un po fastidio però dai se questo vento che da fastidio anche la trota che si è beccato sì mi rughe sì che vanno a pensare che sono andati a tempo libero aderittura nel posto non andate sono tornato a forza No, 3 di giallo, non so neanche capito bene. Noi abbiamo soggelato i 4 alla volta, perché noi siamo in 4, tu darsene uno per uno, che noi li mangiamo. Noi sono grandi, beh, con la testa e la coda, sono più che diventano piccoli. Ma sai, sono delle plume. Ma senti come sto filo lì? Mamma, gareggiante? È ancora lì? No, no, lascia stare. Perché? Perché è lì che la pastura. Allora. Per... Per me per si salto. Eh? C'è un bene. Per me per! Per sia. però no è lì dato sotto ma l'ha visto anche te quando va via come fa io ho sentito che tirava e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.